Mentre andava verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi. Questi si fermarono ad una certa distanza e ad alta voce dissero a Gesù, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse, andate dai sacerdoti e presentatevi loro. E mentre quelli andavano, furono guariti. Uno di loro, appena vide di essere guarito, tornò indietro glorificando Dio a gran voce e si gettò bocconi per terra ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un samaritano. Gesù allora disse, non sono stati guariti tutti e dieci? Dove sono gli altri nove? Non è ritornato nessun altro a ringraziare Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato.